Sindaco, siamo qui a Petina per questo momento di incontro per la presentazione di questo 51esimo Festival Internazionale del Folclore, Serata Antica. Un festival folk che sottolinea l'importanza di raccogliere e preservare le tradizioni da idramandare alle nuove generazioni. È veramente un orgoglio per Petina ospitare questo evento che rappresenta un momento di rilancio delle vecchie tradizioni popolari, ma è anche un momento di amicizia tra popoli, un melting pot che va dal Sud America al Nord America, all'Europa dell'Est e quindi nei prossimi giorni si sentiranno tante lingue in questo paese, non solo il petinese o l'italiano. Petina in questi giorni si fa bella anche di più per ospitare i gruppi che verranno ad alletarci con i loro danzi e i loro balli, ma anche tutte le persone che decideranno di passare qualche giornata nei prossimi giorni da noi. Vi aspettiamo, noi siamo pronti. Un festival che nel tempo è cresciuto ma necessita di crescere maggiormente perché alla base di un festival come questo c'è la socialità, la promozione turistica, la cultura e il recupero delle tradizioni. Sicuramente è un festival che deve crescere anno per anno, devo dire la verità noi già siamo a un livello abbastanza alto, spero che con la presenza di questi politici il giorno 14 ci diano una mano sotto l'aspetto economico e cercare di creare un festival in cui i gruppi faranno un circuito nella regione campagna. Quindi spero che il 14, questo ci siano delle notizie positive per quanto riguarda il nostro festival. Sono 51 anni che organizziamo questo festival, quindi ogni anno invitiamo gruppi da varie nazioni e pure oltre oceano. Quest'anno abbiamo un gruppo della Colombia, della Costa Rica, della Hawaii e della Polonia. Quindi spero che l'anno prossimo riusciamo a fare qualcosa di meglio, diventa una data importante per il nostro paese. Vincenzo Maltempo, art director del gruppo La Spiga Rossa. Ci racconti la nascita e l'operato del gruppo Folk in questi anni e l'importanza di dare vita a un festival di respiro internazionale per meglio conoscere altre realtà musicali, tradizionali, in un'ottica di fratellanza. Come molti forse ricorderanno ero il presidente del gruppo. Ho assunto questa nuova carica proprio al fine di quello che mi chiedevi. In effetti io voglio che questi scambi che noi facciamo, questi continui festival internazionali ogni anno abbiano un'importanza superiore. Lo scopo del gruppo nasse proprio per avere questo scambio culturale con altri popoli. All'inizio avevamo un'azione mirata ad un gruppo soltanto durante l'anno e creavamo questa amicizia con questi gruppi. Adesso lo facciamo con più gruppi. Tanti gruppi che sono venuti 20 anni fa stanno ritornando, ricordano Petina proprio perché gli è rimasto un ricordo bellissimo di quello che è veramente l'ospitalità. Noi abbiamo riscontrato in tanti anni che siamo stati all'estero proprio il simbolo dell'ospitalità riveduto, evoluto. E' quello che vogliamo fare anche qua. Quando i gruppi vengono qua devono sentirsi a casa loro. È una seconda casa. Questa di Petina è un festival particolare in una città che con pochissimi abitanti riesce a coinvolgere tutto l'insieme, tutte le regioni del sud quasi. Perché porta gruppi in tutta la regione, Ciro con la sua organizzazione. Quindi io sono estremamente felice di essere ancora una volta qui a Petina. Ma soprattutto oggi sono ancora più contento perché ho visto due sindaci di due città con gli stessi interessi che cooperano e quindi portano certamente dei momenti importanti anche alla federazione e al territorio vostro. Nel corso della manifestazione sono saltate fuori delle novità piacevoli per i gruppi folclorici. Ecco, i suggerimenti sono giunti dal basso, dai gruppi che hanno esigenze particolari, che le estrinsecano. E noi mettiamo su dei progetti. Abbiamo fatto dei progetti come federazione presso il Ministero degli Esteri e presso il Ministero della Cultura. Vale a dire un bando per il rifacimento dei costumi. E questo è veramente importante per tutti, non solo per gli organizzatori dei festival. E poi per gli stessi organizzatori dei festival un bando particolare, solo per l'organizzazione dei festival importanti riconosciuti dal Ministero della Cultura. Difatti faremo anche un annuario con i festival più importanti. E certamente Petina rientrerà in questo novero, perché è un festival di cui si parla tanto, un festival organizzato bene, un festival coinvolgente che interessa il territorio. I rapporti di amicizia tra Polla e Petina sono rapporti di amicizia antichi, che si sono rinsaldati, si stanno rinsaldando sempre di più. Oggi hanno un ulteriore momento in cui davvero si riesce a creare quel collegamento ancora più forte, che grazie al premio Spiga Rossa 2023, in memoria e ricorda del combiano sindaco di Polla Rocco Giuliano. Parliamo di Rocco Giuliano, questo legame forte proprio con le tradizioni popolari. È stato detto che era sempre disponibile, non solo per questo, ma in particolare verso questo tipo di manifestazione. Sì, perché ricordiamo e ogni tanto anche nella Casa Comunale di Polla abbiamo una serie di fotografie dove Rocco, con l'abito del gruppo Folco di Polla, ha avuto la possibilità di andare su vari palcosceni, quindi di potersi esibire insieme agli altri amici di quegli anni, di quel tempo, degli anni 70. E da questo punto di vista ha avuto sempre una grande attenzione, non solo per le tradizioni folcloristiche di Polla, ma anche degli altri comuni, anche quando ha avuto incarichi a livello provinciale, quando è stato assessore. Aveva sempre un occhio di riguardo per questi momenti e per queste tradizioni antiche. È motivo d'orgoglio per me e la mia famiglia quando papà viene ricordato anche fuori dal territorio dove lui ha lavorato, perché significa anche che ha lavorato bene per altri territori. Poi quando viene ricordato nel folclore ancora di più, perché chi ha conosciuto papà sa che papà faceva parte del gruppo storico di Polla, il Tanager, e poi ha sempre sposato il folclore, perché il folclore è aggregazione. Anche in politica, nel suo operato, lui chiedeva sempre agli altri di essere uniti, perché l'unione faceva la forza. Come gruppo sentiamo forte l'esigenza di tramandare le tradizioni, di riunirci affinché queste tradizioni vengano valorizzate e poi vengano portate nel futuro. Diciamo che la maggior parte di noi ragazzi fa parte dell'associazione, chi per lavoro, chi per studio, comunque sta fuori. Però sentiamo forte l'esigenza di ritornare al paese, quindi ritorno alle radici, proprio perché è motivo non solo di aggregazione, ma anche di conoscenza non solo delle proprie tradizioni, ma anche dei gruppi che ospitiamo. L'importanza anche di interfacciarsi con gli altri gruppi. Assolutamente sì. Diciamo che questa è forse la parte che ci viene meglio. Adoriamo tantissimo stare con i gruppi stranieri che comunque raggiungono il nostro piccolo paesino. e cerchiamo sempre un modo per passare del tempo con loro. Tant'è che quest'anno abbiamo cercato di conciliare l'Holly Color, l'Holly Party, proprio con la festa internazionale dei gruppi, affinché si costruiscano nuove amicizie e perché no anche degli amori, come è già capitato in passato. Salire sul palco, trovarsi di fronte a una platea, quindi anche se uno ha fatto cento volte lo stesso spettacolo, in quel momento quando si apre il sipario c'è un colpo al cuore. Assolutamente sì, è sempre un'emozione fortissima. Devo ammettere che come cantante del gruppo Aspiga Rossa ogni volta è sempre un colpo al cuore, è sempre un'emozione bellissima. La cosa bella è anche il calore che si sente dalla platea, che ci giunge dalla platea, è quello che ci carica e ci motiva, ed è bellissimo così.